Buongiorno, buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo quattro chiacchiere proprio di numero, giuro di non annoiarvi troppo, e parliamo di scrittura pure semplice, né di marketing, né di un libro nello specifico, né tantomeno di manuali di scrittura. Mi piace tuttavia tornare in argomento ogni tanto proprio sul processo creativo e mi piace farlo proprio nel momento in cui sono creativo, ovvero nel momento in cui sto scrivendo qualcosa di nuovo. E nei giorni scorsi su Facebook ho discusso con un'amica che a sua volta si diletta di scrittura riguardo alla sovrapposizione di progetti e di idee. Sostanzialmente il cuore, il nocciolo del discorso era questo, ma se io sto lavorando una cosa, diciamo un progetto di scrittura piuttosto corposo, che col passare del tempo e con l'accumularsi delle parole diventa un po' lento, un po' pesante da seguire, e nel mentre mi viene in mente un'idea più fresca, più nuova, più breve, cosa è opportuno fare? Proseguire comunque e finire il progetto in corso, oppure metterlo in stand-by e seguire la nuova idea, quella che ti ha folgorato magari di notte o magari mentre fai una passeggiata e mettersi a lavorare quindi a un nuovo racconto. Il mio consiglio è stato, e lo ribadisco, faccio questo video per ribadirlo perché magari è un discorso che può interessare a tanti, il mio discorso è quello di seguire indubbiamente la nuova idea, quindi di lasciarsi trasportare dalla creatività. Magari per qualcuno può essere un discorso poco professionale, per me invece è una cosa naturale. Aggiungo che spesso ho fatto così e devo dire, qui rivelo un piccolo dietro le quinte per chi, soprattutto per chi mi segue e mi legge da più anni, alcuni dei miei migliori racconti sono nati proprio sull'onda dell'entusiasmo di un'idea nata per caso e spesso e volentieri proprio mentre lavoravo o iniziavo a lavorare a progetti più lunghi e complessi. Quindi alcuni dei miei racconti più riusciti sono proprio partoriti così, sono stati generati dal flash di un momento su cui ho ragionato ma neanche troppo, su cui ho preso qualche appunto ma neanche troppo, su cui mi sono documentato, in questo caso sì perché in ogni mio racconto salvorare eccezioni c'è comunque una grossa fase di documentazione ma una documentazione che ho fatto già in corso di scrittura, ovvero ho iniziato a scrivere, ho accantonato il progetto in corso, quello più elaborato che dicevamo, solitamente un romanzo, un romanzo breve e mi sono buttato corpo e anima nello sviluppare queste nuove idee nata così, per un istinto, appunto una suggestione del momento pro e contro. I pro, l'ho già detto, è che spesso le mie idee migliori sono nate così, sono nate sull'onda emotiva di un'idea venuta in un momento. Attenzione però, parliamo di un'idea che ha un inizio e una fine, io non inizio mai a scrivere sulle suggestioni di un'immagine, di una singola, diciamo, azione, di una battuta, no, devo, anche se un'idea fumosa deve avere comunque un inizio e una fine, quindi inizio a scrivere solo dal momento in cui posso immaginare una storia nella sua completezza, anche se poi la sviluppo spesso e volentieri e la cambio in corso d'opera. Quindi il pro è questo, aver realizzato delle buone storie partendo da un'idea che non era nei miei progetti. Il contro è, è presto detto, il contro è l'aver dovuto abbandonare, o meglio, mettere in stand by ciò a cui stavo, ciò che stavo scrivendo, ciò a cui stavo lavorando, e non è un problema da poco, perché? Poi questa è una cosa molto soggettiva, ma io per esempio se lascio in stand by troppo lungo un progetto, raramente riesco a riprenderlo, o meglio, se provo a riprenderlo e lo rileggo, noto più i difetti che i pregi, il che potrebbe essere un bene, perché potrebbe aiutarmi ad abortire un progetto che mi sembrava figo, magari già anche tanto sviluppato, ma che a prova dei fatti, rileggendolo dopo qualche mese, ha messo in luce tutte le sue falle. Però potrebbe anche essere un danno, perché noi scrittori siamo spesso i più severi con le nostre opere, o almeno mi auguro che molti di noi siano così, perché di porcherie buttate di primo istinto su Amazon se ne vedono fin troppe, quindi è giusto, secondo me, essere un po' severi con i nostri scritti. Il fatto è che, essendo troppo severi, molto spesso buttiamo via, come si suol dire, brutto modo di dire, ma lo usiamo, l'acqua col bambino, quindi ritornando a mente fredda su un progetto lasciato in stand by per seguire altre cose, può capitare, o a me è capitato abbastanza spesso, di abbandonare quel progetto lì, anche se aveva delle potenzialità, soprattutto se era un progetto che contava, aveva già accumulato molte parole, perché è difficile che io arrivi ad accumulare più di 20.000 parole se una cosa non mi piace. Eppure mi è capitato di fermare, bloccare un progetto anche su 40.000 parole, proprio per seguire un'altra idea che in quel momento lì mi sembrava fortissima. Questi sono i pro e sono i contro. Non so se avviene così anche in altri campi creativi, per esempio la musica, mi viene in mente, comunque c'è un grande dispendio di energia, perché abbandonare un progetto, che sia scrittura, musica o anche altri, mi viene in mente la pittura, è comunque un dispendio di energie e di risorse, quindi è sempre brutto abbandonare qualcosa col rischio di doverlo tralasciare per sempre. Quindi è una cosa che non ho mai smesso di fare, ma su cui rifletto molto, o meglio, non rifletto sull'idea che ritengo buona che mi viene, perché se mi viene, mi viene, no? Un po' come altri bisogni, tanto per buttarla un po' a ridere. Rifletto piuttosto sull'idea di abbandonare un progetto, su quello ci rifletto di più. E a volte tengo duro, anche come diceva la mia amica, lo vedo andare avanti più lentamente rispetto ai primi capitoli, alle prime 20-25 mila parole, cerco di tenere duro. Se poi proprio sono soverchiato da altre idee, da altre cose, da altre ispirazioni, allora continuo ad abbandonare. Sarei curioso di sapere come fate voi, se siete scrittori o altro tipo di artisti, se seguite la linea fino al traguardo, anche se siete stremati, anche se vi viene in mente di fare altro, o se come me vi lasciate trasportare un pochino dall'istinto. Secondo me è un buon spunto di discorso, se si parla di scrittura, e mi piacerebbe sapere la vostra. Intanto salutandovi, vi ricordo di iscrivervi al canale, trovate come al solito il link, il banner di iscrizione qua sotto, e tutti gli altri miei canali nella firma dei miei singoli video, e vi consiglio di seguirmi quantomeno su Telegram e su Instagram. Tutto qui, buona scrittura a tutti!